Eccoci Eeeh Ok siamo pronti direi Ok Due in poi Parole colonne sono io Ah sono le parole crociate Allora Denunciato due video Eh denunciato addirittura E' più bello dire Eh vabbè ci hanno arrestato Ci hanno arrestato due video Niente semplicemente i proprietari del copyright Hanno deciso di monetizzare loro il video Ed è sbagliato Ed è sbagliato Vi ricordate la canzone Tipo di cos'era? Si purtroppo Per quella roba Ma noi come Merd Ah sono morto Eh forse dovremmo andare un pelo Più tranquilli Ci si è allacciati in mezzo E' un po' che non giochiamo sta cosa Manco stavo guardando E stavamo parlando non stavo pensando a cosa E come ospite abbiamo Mancio Ciao Mancio Bene Non ce l'abbiamo più Mancio Silenzio totale Ho detto una cazzata Non ce l'abbiamo più Mancio Non so se c'è ancora In questo momento no Ma si c'è ancora Nel caso Nel caso può parlare Non importa dai Mancio Non ti preoccupare E' timido Mancio Eh si Andiamo con un pelo più di calma a sto giro Perchè sennò Aiaa Guarda a te Eh succede Oh guarda a te Ho qui lì davanti Spare No aspetta stavo La casba qui Andiamo alla casba Forza signor frassica Tutti alla casba La vedo un po' laggare Ma come al solito ma è strano Non lo fa mai Ah è bello Eh si E' una novità Torpi che scivolano Gente che vola Oh rieccomi Speriamo ad entrare qua dentro Sono pronto Ok Ok Allora La seguo Ora che siamo tutti qui Possiamo Prendere il punto D Ecco Ho sparato Al nostro Ah lei allo stava bottiglie Si Ok Ah ho sparato a te Scusami Grazie eh Grazie Non mi viene neanche accor- Ahia Ahahah Ma nooo Ma non mi devi uccidere Cioè Tento ho sparato un colpo Ho esagerato con i colpi Adesso faccio la votazione per spellerti Nooo Ma che brutta cosa Eeeh Non sa stare allo scherzo Eeeeeh Vedi che non sa stare allo scherzo Eh non sta a scherzare ai cosi Se uno ti uccide e no Cosa sta succedendo? Lo so mi stanno sparando Come è morto Eh vabbè Capito No Allora L'ho guardato Pensavo che con Sparmendo la rotellina si potesse Com'è che si sceglie la coltella Eh non lo so E mi sa che devi scegliere il coltello E puoi usarlo come Ma che brutto Mi spar- Eh vabbè Mi sparavano Defeat E' andata benissimo E' andata benissimo A parte che sto venendo sotto la mappa In questo ok Il miglior giocatore è stato kebab E d'altra parte c'è Bot Stefan Complimenti a Bot Stefan Bravo Bot Bravo Oh rieccoci qua C'è del fumo nero là sopra Deve essere kebab Ah ecco vedi Devo selezionare il coltellino Sono qua di dietro dietro Ah si si Devo selezionare il coltellino Cosa fa Vabbè Così No Non colpiamoci Vi deve dare dei colpi ben assistati Ecco Così Non lo faccia Così Ben assistati con Guarda che Sono armato di revolver eh Sono ocelot Ma guarda che ce l'ho anch'io Insieme facciamo revolver ocelot Double revolver ocelot Non riesco neanche a spaccolare Andiamo 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 giù E io colpirò col mio revolver Cosa mi incastra No no Sono io il cecchino No Più o meno il cecchino Tappo? Non ne ho visto nessuno ancora Non ci sono? Posso avanzare? Tappo Uella Che botto Ho visto volare qualcuno Il corpo Di quello che ho finito Allora Bene Di qua Di qua Eh In fondo Posso cambiare mirino Per la prossima volta Non li vedo Avanziamo signor Frassica Sono qua dietro Sono qua dietro No Qua da qualche fare Incastrato Sono incastrato Eh vedo Vedo le sue difficoltà motorie Cavolo lo sapevo io che dovevo andare a correre la mattina Eh Invece si trova in Afghanistan Eh vedi Mio Cosa? Mettete a fare atti che un RPG Esplorerà il mondo E distruggerà il mondo Soprattutto gli obiettivi della missione Cioè Allora Vediamo dove Dove sono Eh dobbiamo prendere B Eh giusto Dobbiamo prendere bravo Eh Ok qualcuno è stato più veloce Non metti a fili davanti No aspetta 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 No Non vedo Se fai fumo non vedo Non ho fatto fumo Eh si lanciato al razzo fai fumo Occhio eh Sono sotto dalla Sotto la scala Quella dei nostri si Ok C'ho di nuovo il lanciato Dovrei esserne contento Troppo fumo Da grosso Ok Dovevo aver cambiato Mierino Per fare il super cecchino Oh Mi piace mi piace Posso fare il cecchino Ok Qua dove sono? Vado Va Non ho colpito niente Vedo un foglio di giornale che vola Non ho colpito niente Non ho colpito È un distruttore di edicole Vado Eh Eh Ti ho visto che cosa avevi Ho visto che cosa avevi Eh Aspetta Vedo armi che cadono Però si Ecco Ho visto cosa hai puntato Un altro lanciarazzi No hai preso tu la granata Mannale Sono io l'esplosivo Sono io che esplosivo Allora Oh sono arrivato No Che succede qua? Sono un cecchino Diambuli Va davanti Eh no Devo stare Eh era quello davanti che mi bloccava la strada Stia attento eh Io tengo sott'occhio le scale lì davanti Lei se vuole vada Proceda Ma mi ha lasciato da solo Allora Eh beh Come beh Beh Devo Devo Ma dobbiamo procedere in coppia Beh Di solito in guerra non vanno in giro da soli Ma io non lo so Soprattutto se uno copre l'altro Ma che sono la tappa che devo tenere la manina Che è morto Veramente io volevo coprire te per farti andare avanti Però va bene Ah dai Ma io non ho bisogno di queste cose E fu così che mori male Ah vedi quanti ne uccisi così O quasi Nessuno E nessuno Forse non lo so E quello che cos'è Quella cosa che ho ucciso che cos'è Eh un mostro un drago Cosa fa? Van Allen Ha fatto la shiwata manco con la chitarra Guarda 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 No Sbagliata fai la shiwata Non uccidere uno dei nostri Vabbè Possiamo procedere E Ah Cosa? Non lo so Non lo so Mi ha colpito qualcosa Una scheggia L'ho ucciso L'ho ucciso un proiettile Eeeh Quale magia? Johnny Eh Eh Johnny Eh Johnny Eh Allora dove Andiamo io seguo questo Ah Johnny Ah Johnny Qua c'è un altro tuo collega con lanciarazzi Ah Johnny Ah Ah Johnny Ah Ah Johnny Uiii che botta Allora Ma lo voglio io e lanciare altri No Aiuto Aiuto No no stia attento stia attento Frassica Non è il centro di dubbio questo Eeeh 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 Ah devo ricaricare è vero che qua non si ricarica Eh Quello non mi ha visto Ah E accessories Sono ucciso io Ok Ok me ero dimenticato Dimentiquato qua dei delle ricariche Aspetta che lancio la molotov Facci facci Non vedo nulla Fanù fuoco ai fumo Va bene Saranno morti Però la strada è un po' chiusa al momento Questi sono leggermente rossiti Non sono morti Afghani alla braccia più o meno Vai, corro Chissà magari, era così che ha preso il nome Kebab Eh sì Allora Aspetta, aspetta Ui, è morto quello Ho lanciato il mio razzetto E non ho colpito nessuno Ecco, sono morto pure io Ma no Hey, I'm loading Hey, hey, I'm loading Vai, vedo cosa vedi tu Ma dai, c'è un lanciarazzo lì Piglialo No, io sono un cecchino Sono un cecchino Prudente Chi è che ha parlato? Non so che per chi Ah, sta distruggendo le robe là dietro Eh, vabbè, ma mi ha fatto danno lei Eh Ancora Un punto No, siamo rimasti due Oh, no, non siete più in due Oh Bene, può uccidere anche gli altri allora Sì, guarda Dov'è lei? Chi spara? Eh, non lo so Da una parte Chi spara? Da dove? Sparano? Qua li vedo su delle scale Questo l'ho ucciso Qua vedo della nebbia Sparano le cose qua Ricarico Ho visto uno? No, no, però forse era di nostri Salute Ah, se fosse morto questo invece si è sdraiato Fa il cecchino per bene quello Ma questi sono dei cani mucca Ma questi sono dei cani mucca Sono dei mucca cani Dei muccani Dei muccani Dei muccani Cani O della caca Della caca Eh, se dobbiamo proprio fonderi noi Dove dovrebbero passare? Ah, ecco, di là Sì, è da tutte e due le parti Anche dalla porta in mezzo Non so se ti ricordi che passano da tutte e due le parti Ah, sì, sì, adesso me ne ricordo Allora Eccoli Sì, ma è chiesto qua Si levi lei Qualche problema col rinculo di questo fucile? Un po' troppo ballerino Dai, entro, io faccio un attraggio, guarda Ma No Vedo più niente Sono morto Da dove, da dove Sono morto da Da un colpo in testo Da un colpo in testo No, proprio dall'ingresso L'ingresso centrale Quello col So, c'è un albero forse Sì, c'è un albero, è da lì Sì, c'è un albero forse Sì, c'è un albero forse Dai, ma ti sei perso la mia bellissima azione Eh, mi dispiace Ma io non lo so Ma io non lo so Aspetti, aspettatemi Ma mi sa che sono spawnato con le armi sbagliate però Ma chi è la sua? Eh, sei andato alla parte sbagliata Ah, ecco Venga di qua Dove sei? No, no, no Torna indietro, torna indietro Torna qua Ok, ti vedo Ok, eh, sono rimasto fermo apposta Giù di qua Ok Sempre un casino sta mappa E me lo ricordo che mi perdevo Sì Eccoci Io credo di avere in questo momento Ho in mano una mitraglietta o un fucile da cecchino? Una mitraglietta Una mitraglietta Eh, infatti Perché me la sono spawnato con le armi sbagliate Ho una mitraglietta con sopra un mirino da fucile da cecchino È una figata La cosa più inutile del mondo Ah, no, è una figata, così non puoi vedere dove spai Appunto, no, perché dove vedo non arriveranno mai colpi Ah, ma noi stiamo andando Dobbiamo andare a Jay Sì Aiuto Adesso serve, sì, la mitraglietta Finte colpi Ho finito le colpe, anch'io Stia indietro No, via, fuoco, fuoco, fuoco Sì Aspetta, aspetta Stanno facendo la... Bravissimo Cos'era? Non è esploso... Ok Esplode con un po' di ritardo Sì Beh, forse è più realistico che... Muoiono nel loro stesso fuoco Eh, ma adesso come si scende? Eh, aspetta che si spenga Fai dell'acqua Eh, aspetta, devo vedere... Dovrebbe avere una borraccia, sai, nel deserto Eh, non lo so io Finito? Va, va Sì, scendo lo stesso Oh, ok Ok, ok Ma c'erano loro da di sotto, vabbè È questo, Jay Anche adesso arrivano, dobbiamo stare coperti Arrivano... ti ricordi? Dalla porta lì davanti Guarda, dove sei? Qua Arrivano dalla porta lì davanti dove c'è la luce E qua a sinistra Se non ricordo male Ok, noi guardiamo a sinistra, allora Ecco i fatti Ecco Sto sparando dei tubetti di carta probabilmente Non dei proiettili Sentire il rumore Ma come si ricarica? Con la erbe Ui, che botta quella Eh, lì c'è qualcuno Toistor Revolver Ocelot Vabbè, c'è... Quell'altro Già finito? Boh Non ne vedo Oh Sono lì? No, qua, qua, qua Ui, che botta Cos'è sta roba Il lanciarazzi Piantato in faccia Che botta Ma sei tu con il lanciarazzi? No, io c'ho il coltellino È un po' glitchato tutto ciò Eh, sì Ah, ma questo sono io Ma cos'è sta roba? Ma hai visto come sono spawnato io? Ma che arma è? È tutto sbagliato Si è buggato Ma come si è buggato? Eh, dopo vedrai il video Ok, we're taking kilo Vabbè È un po' buggata sta roba Aspetta, io sto andando con il coltellino Oh, ma c'è il lanciarazzi Ok, ok, ho cambiato arm Madonna Lo sai che arma ho io? Ma questo è un nemico Lo sai che arma ho io? Eh, ho già sentito Il lanciarazzi Eh È bello Mi piace far esplodere le cose Allora Sono morto Ero rimasto indietro Occhio che ce li avete da dove siete arrivati Sto avendo la sua telecamera È il suo momento di gloria, signor Frassica Allora Andiamo con questo Non c'è nessuno, non c'è Difenda K, mi raccomando Oh No Eh, se spara i compagni però Rende difficoltose le operazioni Comunque se Lì davanti se ti serve c'è il mio fucile a cecchino Sulla destra Non è faga niente Ah beh, io lo dico Io vado, io vado con la pistoletta Vado Faccio, faccio Ah Ehi Non puoi Posso andare lì Non hai privilegi d'amministratore Guarda come è morto quello Aspetta aspetta Si toglia Ma usa un fucile Ma non rilancia Oddio Finisce Finirà malissimo Dai vabbè Massimi sta davanti Sì Ok ti sto sparando Si è glitchato tutto nel pavimento È rimasto solo Taras Forza Taras 20 secondi Lo uccido Come è che si usava chat del Della squadra in partita Ti ricordi che c'era? Sì aspetta che provi Eh Y Prova Vabbè nel caso Oh ci siamo ci siamo Eccomi Eccomi qua il mio R-TG Eccolo Dobbiamo proseguire Questa è sicuramente La Valfadana Sparare un colpo qua dentro Bravo Oddio Cosa sei fatto? Stai Devo recuperare un po' di vita Mi sa Ho sparato il colpo là dentro Eh me ne sono accorto Ok sto lanciando Ok Da che parte dobbiamo Ok giù di qua Ok non posso passare dalla finestra Aia Non ho visto cosa mi ha ucciso Oddio granata Si è morti tutti Porca Eh sì hanno lanciato la granata L'ho vista Eh sì Non ho fatto in tempo a scattare Mamma mia botta Eh sì È proprio sotto i piedi la granata Ma adesso proviamo Proveremo a Ah 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 Stappare qui in pubblico A scappare in pubblico? No no stappare Ah ok Pronto Ma siamo rimasti solo io e lei Signor Frassiker Ah Non vedo altri Siamo noi e lei contro tutti Ma no Lei ha paura Ma t'ho mancato due volte Non è più il fucile? Venga qui Ma che rumore hai fatto di metallo Ma che rumore hai fatto di metallo? Ah devo ricaricare Eeeh Ma cosa stiamo facendo? Dai iniziamo una nuova partita va Va bene Allora Cosa di merda avevi? Cos'è? È il fucile Allora esci al menu principale Esci Andiamo andiamo Se quello è un fucile Multiplier Aiuto Eh sì Faccia faccia Finirà malissimo Allora 21 su 24 Questo qua Proviamo Vediamo 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 Ministry night Eh di notte pure Auguri Ok 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 Ah adesso devo mettere la colonna Stiamo nella squadra sopra Gruppo d'assalto Ok Eh sì Ok Faccio Support Vabbè Ah è quello dentro gli uffici Eh ah Bello quello Vediamo io Ok Ah però multiplayer Eh sì Ok cambio Non faccio il cecchino Come no Non vuoi fare il cecchino Eh non mi sembra Perché zia lo sanno Mi faccio scegliere anche le armi Puffi sanno che ogni arbusto Puffaperum È speciale un giorno muorirà Puffaperum Sanno attenti sai Si attivava la torcia Ah bu Eh Ma no Ma no Ma dai Cos'è Manco ho provato Abbiamo un gioco Difficio Ma no Mi sto ancora Nel sistema Andolarmi Ah Mi ha fatto vincere Siamo in un'altra squadra Cos'è Come hai visto in un'altra squadra Sai che ci hanno messo in un'altra squadra Allora Beh io non ti vedo in effetti Eh 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 Avrei sbagliato a scegliere allora Eh no Aspetta Choose a squad Team selection No siamo in squadra insieme Ah e allora Eh E allora Abatto Sono poco Oh lo sharpshooter Ok Oddio c'è il Mosin Nagant Oddio Sì Secondaia la model 10 E granata fermentazione Chest Allora Ok armor Light armor Ok Tutti si sparano Sono Col Mosin Nagant Va che bello Finirà malissimo Finirà malissimo Però ci sono Allora Vediamo un po' Dove andare a prendere gli altri punti Ah signor Frassica La vedo Bene Io vado avanti Sono due Tu mi dai Ok Vado avanti Andiamo a prendere C Andiamo a prendere C Sto cercando di andare a prendere Sono morto Ecco sono pure io Ci hanno beccato probabilmente dalla destra Eh vabbè ma Noi siamo forti Siamo forti nel late game Sì Sicuro Noi siamo sempre così Siamo quelli più forti nel late game Quindi li lasciamo vincere Ma molto late Cioè Dopo che è finito Più o meno Lasciamo vincere all'inizio Noi siamo sempre così Siamo fatti così Siamo fatti così Adesso ti ho tirato Ti ho tirato tutte quelle di Cassina d'Avena Siamo fatti così Mi discosto da questo comportamento Siamo proprio fatti così Dentro il nostro corpo umano Eh eh Siamo facci Ma da dove mi prendono Ma canti Batman Chi mi spara Eh ma dai ma non li vedo neanche Batman Corri Corri Nella notte Oh Batman non era proprio così ma dai a un certo punto mi sparano e vedo solo che mi sparano per cui lo voglio giocare in cooperativa ma noi siamo bravi ma non è divertente andiamo di qua ma che impariamo se giochiamo una volta ogni morte di papa perché si impara esplorando il corpo umano mi sono incastrato nella scensura ne ho ucciso uno ne ho ucciso uno ne ho ucciso uno stavo per sparare uno con ma questo amico o nemico? non lo so ne ho ucciso uno ma io non posso fare il cecchino correndo in giro nei corridoi ma quello è dei nostri stai sparando a quello è dei nostri l'azzurro è nostro noi siamo una scuola siamo una squadra ma sono due alleati cioè sono due tipologie tipo noi siamo di assalto e loro sono scout quindi per quello sono verdi e azzurri siamo fatti così quindi si di due colori diversi siamo fatti così siamo proprio fatti così ecco lì ma c'è Willy Wonka oh aiuto è morto Willy Wonka ho visto mi è morto davanti Willy Wonka tu sei ancora vivo? no sono morto ah vabbè ma sono un morto di 10 secondi ok sei riuscita ad ammazzarmi uno? sto cercando di vederne uno eh non so neanche da che parte sparino sento sparare ma non li vedo ah no io li vedo e come sono brutti e non sono tanto belli eh ma c'è nulla qua dentro no la 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 cos'è la 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 chi è che spara qua dentro? io li ho visto io ok sto andando incontro al nostro collega dov'era? eh sono fuori dalla porta di servizio ecco ahia eh sono morto non li ho visti? tu sei da un'altra parte ero giù in garage ah non ho ancora visto un nemico dai io li sto vedendo sono dalla parte destra dove ci sono i computer si vedo casino è perchè sono lì fuori proprio perchè è un'arma della rivoluzione francese? perchè mi piacciono le armi antiche allora ah ecco eh beh giustamente ah l'ho visto l'ho visto è differente ma come sono morto? ma mi uccidono attraverso i muri si possono sparare attraverso i muri le loro armi moderne eh ma io non li vedo quello è il problema le loro armi moderne non porca ho fatto la baccata stai allì di fronte provo a cambiare armi vieni con me vieni con me eh una prendo uno sterling ok ok venga con me e dov'è? Matteo eh eccolo dove sei scusa? la parte destra dell'ufficio verso c? eh verso c prima di c perché non la vedo sulla mappa ah salve eh ha spuntato un fucile ah 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 eccoci è uno dei loro fucili moderni camperiamo qua ma come camperiamo? si da dire arrivano da qua da questa portina si si da questa portina vabbè questa portina ok io ogni tanto guardo dietro ok non c'è come sta bene lei signor Don Matteo eeeh sono Terenzio Collina dai provo a vedere chi c'è ho vinto senza vedere un lavoro al nemico io li ho ucciso una manca qualcosa in tutto ciò cosa non funziona Mi ha ucciso uno Eeeh, wow Che bello giocare così Wow, venga qua, venga qua Dov'è? Mi raccomando, sono alla sua destra Che versi Allora Vediamo un po' Stesse sul microfono Ecco, bene Allora, la seguo Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo La sto seguendo Li troveremo differente, te lo dico Qua Saranno di qua, eh Ecco, infatti, sono tutti qua Ah Ah, ok Dove aver seguito la persona sbagliata Ok, però vado ad andare, lui Ha fatto una brutta fine Quindi siamo qua dentro Ok Ok È il 9 È il 9 No, sto dicendo il mio padre Qua posso fare? Ho tirato un bombardino? Sì, ho tirato un mici Ma non c'è nessuno Ecco lì Ho visto uno Dall'altra parte della sala Ma te ne sei andato da qua? Sì, via, sono dietro di te E sono Ce n'è uno qua nella sala Ok Siamo qua, eh È lì proprio nella sala Sta giranzolando Oh, è un dietro, dietro, dietro Qua sto? Dietro, dietro Vai È entrato da lì Da dove stavamo guardando prima Eh, vabbè Dovevamo Beniamino Cordales 2004 Bravo, Beniamino Ci ha ucciso Lui Liwonka L'abbiamo perso Per favore, facciamo la cooperativa Non si riesce a giocare Facciamo la correlativa, dai Eh, la correlativa La correlativa Allora, qua ci sono Cinque giocatori su otto, dai Allora Eh, Spider-Man Ah no Spider-Man Ah no, quello era Tiger-Man Se dicesi Tiger-Woods Bisogna fosse un misto Tra Spider-Pork di Simpson E Tiger-Woods a caso Spider-Pork, Spider-Pork Esattamente Spider-Man Spider-Man Allora, io sono il Grenadier Come al solito Io faccio il... Rifleman Allora Vediamo un po' Cosa offre... Per l'uomo fucile Esattamente Per l'uomo fucile Bravo l'uomo fucile Proprio io Red Hot Actionman Ogni giorno lo sai Che dovrai combattere Un uomo cattivo E' veramente cattivo E' veramente cattivo Perchè mi trà più enfasino E' giusto E' veramente cattivo E' veramente cattivo Actionman Abbiamo catturato bravo Tu 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 Ma se tu vuoi Ma che è quello lì? Il mondo è tuo Ma perché? Quelle stelle Ma ho telefono io alla Disney Dico fatteci il reclamo Per favore Che qualcosa non va Questo sta facendo una montagna di cadaveri Tutti sulla stessa porta Eh sì però se non ci fanno spawnare Eh Vedremo Poi se scoppiate le caviglie Come potrà Il mondo è mio Il mondo è mio E' una delle cose peggiori che abbia mai sentito in vita mia tutto ciò Ma sei sicuro? Ma che bello Ma sono proprio bello io Sono proprio bello Sono un uomo bello Ben per lei signor Frassica Lei vada Allora Dove dove dobbiamo andare? A cagare Ah ok E chiediamo se a qualche afgano Se qualche afgano ci può ospitare No Proviamo a bussare qua Faccio andare avanti No Non funziona Ma ogni tanto Avevo perso la connessione dello streaming Oh Tutto a posto adesso Sì Sembra di sì Speriamo Sono un uomo veramente cattito Iii Ho lanciato una bazookata Ho lanciato una bazookata Vabbè faccio io Ho tirato la granata via Ma no Ah no ma c'era già uno qua Sì Meno male non ho preso nessuno Contro un uomo veramente cattivo Eh Cosa? Un laser che mi puntava la faccia Sono tutti i nostri i laser Sì sono i nostri Aia Chi che mi ha sturdito con il lancio a razza Ok Con questa arma già mi trovo meglio Ma me la volevo io La molotov me l'hanno urbata Ah male di voi che hai qua Eh sì Si vede una mazza con tutto quel fuoco là dentro E quello corre E' andato è andato Io sono sul balcone Io sono sotto Eh provo a scendere No no adesso sono sotto Ma Chi ha preso? Ascende solo Ascende anche lei Ascendo anche io al cielo Allora Ok la gente sta andando avanti quindi Credo possiamo andare avanti Ho una granata A fermentazione A fermentazione Ho un minicicicciolo in mano Un minicicicciolo nano Cos'è che dite? Un minicicicciolo nano in mano Hai un nano in mano? Un nano in mano Io ho sentito questo eh Ho un nano in mano Lasci i Tyrion per favore E' un essere umano come tutti gli item No i Lannister li odio proprio come la pazzo dei Lannister Eh ma lui è il migliore dei Lannister Ma è un Lannister E' anche il meno Lannister dei Lannister Se qualcuno magari mi dice che è Tyrion Io non faccio niente Eh lo chiede a Martin Dove sta andando con quel nano in mano? Non so Ma sta andando nella parte opposta Sono tutti qua sopra Ah ma Dove sono le scale? Forza Mi segua La sto seguendo con il nano in mano Bravo Ho sentito scappare Ecco Qua c'è una sparatoria Adesso sentirei uno scoppio là sotto Sì ho sentito E mi hai anche ferito sopra qui Ah Faccio attenzione signor Frassica Oh Sì Nebbia in Valpadana comunque Oddio ma come faccio a cambiare l'arma Se qua sotto non si vede un tu Non posso Di qua Aspetta Ma se M4A1 Smitraglio Nemici a destra a destra Sono circondato Sono morto Sono morto E' male anche Eh siamo finiti Sono arriati sia da destra che da sinistra E io ero dietro una colonna Poi volevamo stare lì Eh Certo che se siamo così bravi Non mi stupisco del fatto che Riusciamo a vincere tutti i multiplayer Eh sì Ah fuck Picazzo stavo seguendo quello che eravamo davanti Il problema è che è andato a morire E mi sono trovato così in mezzo Io no io a me sono andato proprio per i cazzi miei Ah ok è ancora peggio forse Giustamente pensavo di avere il mondo in tasca invece E invece Il mondo non è mio Eh direi proprio di no Neanche l'Afghanistan Eh no Con quelle stelle puoi giocare Nessuno ti tira Ah proprio le peggiori canzioni No C'è proprio Troppo brutta Ma no era così bella No non è assolutamente vero Ma non è vero Era bellissimo Che era così bella Io voglio respawnare Che non me la ricordo Eh grazie al cielo Grande Ma poi c'era grande da lì Eccolo lì Ali Ababua Non ripeteva principali Eh boh ne diceva tanto Ali Ababua Quest'uomo lagga comunque Luftangriff è lagga Sempre più in giù Con umiltà Sparano L'ho colpì Attraverso il mare blu Vale per tre Ma questo è fermo Si piaccia il suo segnoia E' mitico alla follia E' un altro capitolo io E' il grande Sparato a uno dei nostri E' lo comune di trovare dei nemici Sulla scala Sono due mille gioielli Ah per favore basta E' i cannoni Colore viole Bluuu Parliamo di Ma lei sta giocando O sta cantando Sto giocando E' cantando insieme No per favore Giochi e basta Ma è così bello No è un po' fastidioso Dopo un po' No sto cadendo Ah questa è la roba Che dovevo Struggere Io non lo so Eh sì Sento un suono Ma non è Ah è sopra Ecco cos'è Capito perché Si è compenetrato il fumo Sennò non me ne accorgevo Ma come faccio a salire Perché sono tutti fermi Cosa fa questo Eeeh quanti scoppietti Dove sono i? Ecco lì Oh merda Sono tutti qua dietro Sì dove c'è la scala Dove sono io? Come sei morto? Chi è che mi ha colpito il testo? E' quello con il nome impronunciabile Ma poi ok Cioè credo sia russo Sennò E tu ho visto Doi addio Dov'è? Lo voglio Morto lo voglio Non ti far buttare fuori Della partita però Piuttosto futta per buttare fuori lui Futta ho detto Eh non so come ti fa Ma quello è nemico Sì era nemico C'è sempre il dubbio È amico o nemico? Quello è morto Nel dubbio Sono morto Ma mi hai ucciso tu Ma dai Oddio Che poi volevo colpire quello di fianco Invece mancavano due di vita Eh perché ci stanno sparando Eh vabbè Quello col nome impronunciabile non lo vedo Lufthagri Ah no 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 è proprio scritto in cirillico Eh ma l'hanno buttato fuori Eh non lo vedo Eh no Non lo vedo più Mi hanno buttato fuori Lei è respawnato? No No Eh vediamo un po' cosa combinano questi Eh quanto lag ha questo Cambio C'è uno che è inseguito Eh 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 Quanti anni è per gioco? Per girarsi Guarda perché c'hai lì C'è lì il bazooka eh Prendilo Digglielo Digglielo Prendilo Prendi il bazooka No no magari schiaccia il tasto Qual era? Y ne hai detto? F Ah no Y Digglielo The Bazooka Ok 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 Rpg Rpg Comunque può anche dire Credo sia più giusto For rpg G o g no g n For rpg Va bene Va bene Allora Ce la fanno sti due Cosa fa? Ah ok È arrivato al Ci siamo ci siamo dai Adesso rientriamo Sì un minuto Sì sì è partito il timer set Spero sia per noi Sì sì è per noi Oh per vincere la partita Boh Sarebbe brutto vincere da morti Eh sì Allora Allora A questo Dobbiamo violare qualche copy height Dai Non No no Cosa 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 vi canto? Ah così no Non violiamo copy height Violiamo solo I timpani delle persone Però E la pazienza Anche Del pubblico Non si faccia uccidere Non lo più ti ho poveri Sto male Comunque è anche io insieme Devo stare a provarlo Entra Movede Scusate il nostro amico che ci scrive Ci scrive su whatsapp Dai Muoviti Ah non l'avevo visto Entra anche tu Che te Il nostro amico lo conoscete? Charona? Eh sì Ma chi stai parlando? A me A Charona E sono io Quello che fa il video E anche il pubblico Oh Charona Tu 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 Eh vabbè ma digli di entrare la prossima volta Sono le 11 e un quarto Mai 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 Vabbè Entra Entra e esce Entra e esce Mai Charona Tu 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 Oh quello è morto Devo stappare Ah è lei Ma è comparso uno di fianco Devo stappare ma non so dove Vabbè E non ci sono Preso il palo della luce Andiamo Devo andare a Dacca Dove è l'uscita? Mai Charona L'uscita? Ok Mai 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 Oh Secondo me se avevamo un pubblico Ha chiuso da tempo Nel senso Se n'è andato Oh e tra tanto non ce l'abbiamo Eh lo so però Mai 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 Che succede? Ma perché? Ma perché? Ho scattato un colpo scusate Aiuto Sparano Da dietro De porcaeva Ma mai 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 Oh Ma 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 mai 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 Charona Ma mai Mai Già mai Ma ma Mai Già mai Mi sto incastrando Tu si sei incastrato Dai Charona entra Che che stiamo ancorando in due minuti E' morto quello Ma 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 mai 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 Ho capito per ricaricare Vediamo un po' Mai Charona Ah siamo in H Ok Non mi sono accorto adesso Però è bello quello Tutti dei poveri Vero? Si però è migliore Forse anche quello Cioè rispetto a quello Dei ricchi Si quello Sarà più brutto Da vedere però Una palla Quello dei ricchi Dico Ma sono tutti Bambinetti Che corrono Col coltellino Cosa è successo? Mi sono buttato Dalla finestra Pensavo Sesse resistere Invece Non è proprio Se è morto Al quarto piano E' proprio Forse Ma va che bella L'immagine Che hai messo Eh si Ma che Ma quanti sono? Oddio oddio Reddy ti serve Ti servivo io Che scappavo E invece Di lanciarsi giù Dalle finestre Ho finito i colpi E vabbè E adesso devo aspettare Un minuto Credo sia finita Quell'ondata lì No 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 non è ancora finito Ma Shireon C'è risposto Ma cosa ha detto? Eh sta finendo Il primo di spade Ah Vabbè Digghi domani Dai E allora domani Shireon Dai Domani 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 Bene Siamo stati etichettati da tutti ormai come giocatori di giochi per poveri Ed è in effetti Ma sto buco c'era prima Non me ne sono accorto Magari l'ho fatto io Non credo Però Adesso ti lancio due per granate E' colpa mia Non credo che il gioco permetta comunque di fare buchi Però non me ne sono accorto Ma c'è Mus che sta Vabbè Guarda che bello C'è anche l'infalcatura Fatta male Fatta a mano Fatta a mano E poi c'è il sedere di quello lì Abbiamo vinto E io mi son buttato dalla finestra Complimenti Che bello Direi che possiamo chiudere per stasera Direi di sì Salutiamo Alla prossima saremo con Sharona Salutiamo Sharona Salutiamo Salutiamo Chi è che c'era prima Con noi Che poi non c'era più Il dottor Silenzio Il dottor Silenzio Che non c'è più con noi Esattamente E quindi E quindi Addio 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 E non fate come frassica Quando va in guerra Ma in Sharona